Coronavirus, zero nuovi casi, zero decessi nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato, lo dice il bollettino della regione che registra in tutta la Toscana quattro contagi e due vittime con i bilanci che salgono rispettivamente a 10.121 e a 1.055. Prato resta ferma a 565 positivi e a 48 morti. L'andamento continua a dare segnali confortanti con la Toscana che si conferma al decimo posto in Italia per numerosità dei casi, 271 ogni 100.000 abitanti rispetto a una media nazionale di 387 e all'undicesimo per tasso di mortalità con 28 ogni 100.000 abitanti in confronto a una media nazionale di 55. I guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati di 40 unità raggiungendo quota 8.093, 1.033 i pazienti che non hanno più sintomi dopo le cure ricevute ma che continuano ad essere positivi al tampone e 7.060 quelli risultati negativi dopo il doppio controllo. Si riducono ancora i pazienti ricoverati negli ospedali toscani, attualmente sono 101, 9 in meno di ieri, di cui 25 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i ricoveri totali è questo il punto più basso raggiunto dall'8 marzo.